Aggiungo che sono davvero molto emozionato perché il 28 febbraio esce questo CD importantissimo di Rita Pavone che ripercorre alcune cose storiche della sua vita, c'è un duetto con Lucio Dalla, uno con Polanca e c'è anche il nostro duetto che è l'unica cosa che lei ha registrato negli ultimi anni prima del Festival di Sanremo. Rita Pavone era per me un idolo, una superstar, anche se ha pochi anni più di me, però io ero solo uno studente, lei era già una superstar, per cui il fatto di aver composto una canzone che cantiamo insieme per me è motivo di una grandissima emozione. Aggiungo che secondo me in campo femminile in Italia Rita Pavone è stata l'unica vera alternativa femminile a Mina perché era talmente diversa che si vedeva che anche Mina si divertiva, era contenta quando due stavano insieme. certi suoi interventi ultimamente hanno distratto il pubblico dalla sua dimensione artistica, si è parlato di tutt'altro. Invece no, tornando a parlare di musica, come è giusto che sia, Rita Pavone rimane una superstar internazionale. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti.